La lotta contro il tumore al seno è una battaglia che in moltissimi casi ormai si può vincere. L'importante, oltre alle cure appropriate, è diagnosticare la presenza della neoplasia in tempi molto rabiti, per agire tempestivamente nel modo meno invasivo possibile, per ottenere i risultati migliori, che dal punto di vista della spesa sanitaria significerebbe un risparmio notevole, e fare prevenzione con controlli sistematici per intercettare le neoformazioni in tempo. Per questo motivo esistono gli screening obbligatori che le varie aziende sanitarie propongono alle donne residenti nel loro ambito territoriale, che permettono di monitorare una percentuale altissima di nonne. Ma per fare tutto ciò, in Calabria e a Vibo Valenza in particolare, bisogna fare i conti sia col piano di rientro, sia con la carenza di personale da destinare in modo quasi esclusivo a questo tipo di diagnostica. Ed ecco che a questo punto viene in soccorso alla sanità vibonese l'associazione Insieme, che da anni si occupa di assistere i malati oncologici in provincia, che si è resa a sussidiare all'ASP bandendo un concorso. La nostra associazione, nel programma dello screening per il tumore al seno, per quanto concerne la popolazione sana del vibonese, ha bandito una borsa di studio per un tecnico di radiologia, in collaborazione con l'azienda sanitaria, la quale momentaneamente poteva invitare solo un certo numero di persone per mancanza di personale. Abbiamo bandito questa borsa di studio che è stata vinta da una giovane laureata in tecnica di radiologia, nata a Vibo, quindi ci tengo a dire una professionalità del nostro territorio, che lavorerà presso la radiologia dell'ospedale e quindi dedicherà il suo lavoro alle donne del vibonese. Questa borsa di studio è fidanziata con i fondi dell'associazione che derivano dalle donazioni di pazienti o di familiari di malati oncologici che hanno voluto essere grati alle cure che hanno ricevuto. A vincere la borsa di studio è Milena De Luca, che affiancherà i tecnici dell'ASP nell'esecuzione dello screening. Io penso che sia un input in più per raggiungere dei buoni obiettivi nel programma di screening, perché penso che comunque prevenire significa evitare la malattia o comunque prenderla in tempo e curarla. Quindi non perdiamo l'occasione di dedicare del tempo alla nostra salute e facciamo prevenzione. Io penso che questa sia un'ottima iniziativa, anche perché si rivolge ad un'utenza per noi particolarmente delicata. e quindi il fatto che ci vengano incontro con degli operatori che contribuiscono insieme ai nostri allo screening e per la prevenzione di alcuni tipi di tumore penso che sia un fatto di un'importanza notevole. E quindi noi ci auguriamo che negli anni a venire simili collaborazioni possano rafforzarsi e riportare.